buongiorno ragazzi riposato bene oggi il nostro riscaldamento ci porterà alla forza ovviamente ancora una volta ma faremo il gran petto quindi panca piana preparati bene occhio agli esercizi e ci vediamo tra poco ciao ragazzi siamo arrivati alla forza quindi abbiamo detto pettorale gran pettorale quindi bilanciere vuoto un ulteriore riscaldamento l'idea di oggi è lavorare sull'uno rm qualcuno ti ha mai parlato del tuo 1 rm l'hai mai calcolato sai come si fa nel caso mi scrivi sotto noi oggi faremo il 5 per 5 anche questo è un metodo utilizzato spesso per qualsiasi domanda scrivimi sotto noi ci vediamo al workout ciao ragazzi am on every minute on minute direbbero quelli bravi ma noi siamo semplici l'idea oggi è fare su tre minuti quattro esercizi rispettivamente 5 10 15 e 30 ripetizioni quello che rimane dei tre minuti diventa il tuo recupero e lo ripeti per cinque giri per qualsiasi altra domanda scrivi sotto allenati bene ed iscriviti al canale ciao 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 ciao